Comincia la nostra stagione, per il Gela è chiaro che si parte dal presupposto che bisogna subito raggiungere la salvezza, però dalle parole del direttore sportivo Martello, dalle dichiarazioni del tecnico Bruccoleri, è chiaro che la salvezza credo sia il minimo per il Gela, per una grande piazza, dunque sostanzialmente si punta a qualcosa di più importante. Certo, intanto come dice lei, Gela parlare di salvezza è riduttivo, è riduttivo, quindi pensiamo a fare un buon campionato ed arrivare il più in alto possibile. Te ne hanno parlato di Gela, qualcuno? Conoscevi già la piazza? Per sentito dire sì, è una grande piazza, detto da tutti comunque. Il tuo ruolo che predirigi in campo qual è? Estendo d'attacco. E trovi i compagni già adatti anche allo schema che sta preparando il tecnico Bruccoleri? Sì, sì, sì. E cosa possiamo promettere ai tifosi del Gela, considerato che la salvezza credo sia oramai il punto di partenza per puntare ad altro? L'unica cosa che posso promettere è il massimo impegno di tutti e la massima professionalità. C'è una squadra secondo te che in questo campionato di Serie D, che partirà al più presto, può puntare al salto di categoria? Sinceramente non lo so. Mettiamo il Gela? Mettiamolo. Ci proviamo. Ci proviamo. Per me è un onore indossare la maglia del Gela innanzitutto e come calciatore ti posso dire che, come ha detto lei, indossare la maglia del Gela è un onore. Bisogna dare sempre il 100%, sia per i tifosi che per la squadra. Cerco di dare il massimo tutte le partite. Ma quando hai ricevuto la chiamata da parte della società ci hai pensato un attimo oppure hai detto subito sì a prescindere? Ho detto subito sì a prescindere perché, ti ripeto ancora una volta, indossare la maglia del Gela è un onore, è sempre un onore. Ma cosa ti hanno detto del Gela, considerato che è la prima volta che tu sbarchi nella città del Golfo? No, mi hanno consigliato un sacco di persone che hanno giocato nel Gela ai tempi della vecchia C1 e sono stato subito convinto sia dalla città sia per il calore dei tifosi e per tutto quanto. E il minimo puntare alla salvezza, poi c'è di più? Sì, c'è sempre di più, bisogna sempre portare in altro. Ma a cosa si punta? Non diciamo alla promozione diretta in Lega Pro, quanto bene i play-off? Ci provate? Si punta sempre a fare bene partita dopo partita, poi il resto si vedrà avanti. Voi ce lo metterete tutti? Sempre.